Ciao da Lucia! Oggi non farò un video tutorial ma un video di recensione degli ultimi filati che ho acquistato. Mi chiedete sempre sul mio gruppo Creando con Luce Franci dove acquisto i miei filati e quindi quando acquisto qualche prodotto nuovo ho deciso che faccio la recensione così voi ve li faccio conoscere e sapete, vi dico anche dove li acquisto. E quindi sapete dove indirizzarvi se volete comprare gli stessi filati. Allora, io oggi partirei da una chicca, una chicca è una cosa particolare, un filato particolare e allora io ora ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore perché è gigantesco questo gomitolo io vi faccio vedere quanto è grande questo gomitolo e quanto è grande un gomitolo normale. quindi è veramente un gomitolone ed è un bouclé, ma un bouclé molto delicato. Vedete, non è il classico bouclé grosso grosso. Devo dire che questo colore poi io lo adoro e ci farò un progetto a breve. Vabbè, voi penso che se mi conoscete sapete già che io adoro il verde in tutte le sue sfumature quindi non potevo non prendere questo colore ma c'è anche di altri colori, c'è blu, c'è rosso mi sembra. Comunque, sulla pagina facebook di merceria.spillo, vi lascio poi sotto nella descrizione i link o nella pagina del gruppo facebook di Marisa Marino potete tranquillamente trovare tutti i filati di merceria.spillo e quindi fare domande più specifiche e avere tutte le informazioni sui colori. Io per ora vi faccio vedere quelli che ho acquistato io e quindi quelli che ho in casa. E questo è uno di questi. Adesso prendo, io avevo precedentemente staccato l'etichetta, che è questa. e quindi alisee alpaca, vi dico subito che. Allora, è un 60 acrilico, un 15 alpaca e un 15 lana. Quindi, comunque alpaca morbidissimo. Ferri consigliati 4, dal 4 al 6. Uncinetto consigliato numero 24, qua c'è scritto. Io vi dico che ho provato a lavorarlo, con il 4 e mezzo non riesco ancora. Devo provare con il 5, perché secondo me quando i filati hanno questo nodino bisogna trovare un uncinetto che abbia una grandezza superiore al nodino perché sennò facciamo molta fatica a vedere più che altro la catenella iniziale. Poi magari la maglia si vede, ma la catenella iniziale è veramente difficile da vedere. Non l'ho ancora lavorato, quindi non so. Io leggo quello che c'è scritto sull'etichetta. È consigliato anche un uncinetto, perché vedo che qua c'è segnato anche l'uncinetto. Quindi io suppongo che si possa lavorare anche con l'uncinetto. E quindi questo è il primo filato che volevo farvi vedere. Allora, non vi ho detto che il gomitolo, quindi il mio bel gomitolone, è da 350 grammi ed è da 875 metri. Vedete, avevo dimenticato questo particolare. Vi avevo detto composizione e tutto quanto, ma non vi avevo detto la metratura. Il colore di questo... Colore... E l'8... Allora, io vi leggo questi due... Allora, il colore è il 1.400. Ve lo metto vicino, così vedete bene il talloncino. Metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco... Non lo metti a fuoco... Allora, adesso ve lo metto a fuoco io. Ecco qua, vedete? 1.400. Ecco qui. Quindi questo è il... Vi ho detto anche il colore e la metratura. L'avevo dimenticata e mi dispiace molto perché è molto bello questo filato. Se lo volete acquistare, almeno avete tutte le indicazioni. Quest'altro filato, invece, devo dire che a me piace moltissimo. Allora, è lo Yarn Art Christmas. Yarn Art Christmas è un filato sintetico. Vedete? Ha dentro queste pagliuzzette tipo plastichina. È molto indicato per gli amigurumi, stanno facendo molta oggettistica natalizia. Quindi gli alberali di Natale, palline di Natale, insomma, tutte quelle cose natalizie si presta bene. Lo dice anche il nome, Christmas. Però, io devo dire la verità, ci ho fatto un cappello. L'ho fatto un cappello che è venuto molto bello. Non pizzica. Allora, toccato così sembra che pizzichi. Ma vi dico la verità, una volta lavorato, quindi una volta fatto il punto, non pizzica. Io l'ho usato con un uncinetto del 3,5 per fare un cappello. Può essere usato anche col 4 se lo volete lasciare un po' più morbido. E devo dire che mi piace moltissimo. E questo è ovviamente 100% poliamide. 50 grammi. Sono 142 metri. Molto bello questo filato. Io l'ho preso verde, ci sono veramente moltissimi colori. C'è il rosso, c'è, mi sembra il marrone. Devo dire che a me questo filato piace tantissimo. E poi, ripeto, il verde è il mio colore preferito. Di conseguenza, non ho avuto problemi sullo scegliere. Il colore. Vi consiglio anche questo. E' molto, molto bello. Veramente molto bello. Allora, invece poi vi faccio vedere questi due bellissimi. Questo è un unico filato, ma in due diverse colorazioni. E quindi è Alise Angora Gold. Io sto facendo un progetto con questo Alise Angora Gold. Vi assicuro, è di una morbidezza allucinante. È pelosetto, non pizzica. Anche perché è veramente molto, molto morbido. Guardate, lo sto lavorando con un uncinetto del... Questo si lavora con un 4-4,5 perché l'Angora, nonostante sia un filato molto sottile, se lo lavorate con un uncinetto troppo sottile, il suo essere pelosetto lo fa sembrare il risultato finale quasi infiltrato. Un po' troppo gnocco, diciamo, come lavorazione. Invece, devo dire che lavorato con un 4-4,5 viene una cosa molto morbida. E' molto, molto bella. Io l'ho preso in queste due diverse tonalità, vedete? Questo sfumato blu che arriva al bianco. E' questo che era molto particolare perché ha tutti i colori tipo vinaccia, della vinaccia, ha dentro un po' di viola, un po' di sfumature di verde, vedete? Anche di ecru. E arriva proprio al verdone scuro. Ha dentro un sacco... Vedete? Vi apro bene il gomitolo. Guardate qua che belle sfumature che ha questo. Questo è proprio molto colorato. E' molto, molto bello. Anche con questo ho in programma un progettino, quindi molto particolare. Allora, vi dico, questo qua, il gomitolo è da 100 grammi, 550 metri. Quindi già con 300 grammi ci fate un maglioncino, ci viene fuori. Ovviamente un maglioncino taglia SM. Ovviamente se si sale consiglio, io consiglio sempre di prendere almeno 400 grammi. Però comunque essendo una metratura abbastanza imponente, perché comunque 550 metri sono una bella metratura, non servono. E' molto leggero come filato ed ha una metratura abbastanza lunga. Quindi non servono chissà quanti gomitoli. Io penso che per una taglia media un 400 grammi potrebbero bastare, perché effettivamente rende tantissimo come filato. Rende veramente tanto. Vi do le indicazioni anche di questo filato. Appunto, dicevo, 100 grammi, 550 metri. E sono 80% acrilico, 20% lana. E devo dire veramente soffice. Io ci sto facendo un progettino adesso, quindi penso che settimana prossima riuscirò a uscire con quel progettino. E volevo, se riuscivo a trovarvi i colori, se riuscivo a trovarveli, io faccio sempre fatica a vedere dove sono i colori. Eccolo qua. Allora, di questo blu è il colore 1899. Mentre, adesso l'ho trovato per uno, deve esserci anche per l'altro. Ecco qua. Questo qua sfumato vinaccia che va fino al verde, il colore è il 25-27. E quindi io non posso che parlare bene di tutti questi filati. Io adesso, se ve li metto qua, il gomitolone non ci entra tutto perché è gigantesco. Direi che ho finito la mia recensione. Quindi vi invito, se volete, andare a vedere la pagina Facebook di Merceria.spillo oppure ad andare a guardare il gruppo di Marisa Marino, appunto, il gruppo di Marisa Marino, gli amici di Punto Spillo. E ho avuto un attimo di... sono andata in papera. E niente, direi che questa recensione brevissima è finita. Direi che spero di essere stata, diciamo, chiara nella descrizione dei filati. Io ci tengo particolarmente perché comunque mi chiedete spesso, appunto, dove acquisto i miei filati. E quindi, onde evitare di dover continuamente dirlo, ho detto, faccio una recensione così perlomeno tutte le amiche sanno dove li prendo e sanno soprattutto, hanno più informazioni su questi filati che, devo dire, sono veramente bellissimi. Io vi saluto, vi invito a venire a trovarmi sul mio gruppo Facebook, Facebook Creando con Luce Franci. Anche per oggi vi saluto, vi mando tanti baci. Ciao ciao da Lucia, al prossimo tutorial. Ciao!